Allora, intanto benvenuto qui al MIPIM. Allora, che significa per Bologna essere qui quest'oggi? Beh, significa presentarci al mondo. Siamo abituati ad avere forti relazioni con il mondo. Vogliamo rimanere una città che abita il mondo e veniamo al MIPIM per offrire le tante opportunità della nostra città, a cominciare dal progetto FICO, Italy World, un grande parco tematico dedicato al cibo italiano. Sarà l'unico in Europa e contiamo molto su questa capacità di attrazione. Una grande città metropolitana, Bologna, lo possiamo dire? Sì, lo era di fatto. Adesso è stata riconosciuta la nuova legge. Siamo un'area metropolitana di un milione di abitanti, dove sappiamo bene che la differenza la fanno le persone con il loro lavoro e le loro capacità. Ci presentiamo qui con molte aziende, a cominciare da quelle che sono inserite nel progetto Italy World per finire con quelle che si occupano di energia e di mobilità elettrica. Ecco, e la CAB sta facendo passi da gigante e proprio all'interno di CAB si sta sviluppando il progetto FICO e soprattutto i progetti CAB1 e CAB2. Adesso il futuro sarà CAB3, sindaco? Sì, sarà il fatto che la città si doserà di una mobilità elettrica e questo ci permetterà di continuare a mantenere un primato che ci è stato riconosciuto proprio ieri, cioè la città più smarta d'Italia. Fizzico di orgoglio possiamo dire che anche Unendo Energia ha contribuito al rilancio di Bologna nell'ecosostenibilità? Sì, fa parte appunto della differenza che le dicevo prima, abbiamo aziende che sanno stare sui mercati e che sanno cogliere le opportunità di investire sull'ambiente.